Hola gente, rieccoci qui a parlare di quello che è successo in un anno di questo conto trading che è stato più che raddoppiato e quindi la sfida accettata nel novembre del 2022 è stata ampiamente vinta tra poco vedremo tutto quanto tutti questi risultati sono rivedibili live quindi chiunque mi può contattare e facciamo tutti quanti i passaggi ripacciamo tutti quanti i passaggi in diretta e tutto questo l'ho fatto anche per abbattere i tanti fuffa guru che ci sono online ma soprattutto le tante persone che non mostrano e non dimostrano di saperci fare e di poter fare determinati investimenti determinati ritorni rispetto all'investimento iniziale e quindi andiamo a vedere effettivamente quello che è successo in un anno perché poi nell'ultimo periodo mi sono fermato e quindi andiamo a rifare tutto quanto il reload in alto a sinistra trovate il numero del racconto 9019779 fx pro e adesso ci mettiamo il periodo personalizzato dal 27 novembre 2022 il tutto è iniziato dal 28 novembre quindi mettiamo il 27 per rimanere ampiamente dentro e per rimanere ampiamente dentro mettiamo come data il 30 novembre 2023 e andiamo a vedere tutti i trade in calce trade dopo trade eccoli qui uno dietro l'altro li potete vedere insomma ovviamente non mi soffermo troppo diventa pesantissima come cosa nel soffermarsi troppo su ogni trade ma questo è il risultato 1162 euro e 74 centesimi partivamo da 1060 euro e quindi il conto come possiamo vedere dalla bilancio attuale dal saldo attuale 2225 euro e 709 centesimi e più che raddoppiato ora salviamo tutto quanto salva come rapporto dettagliato eccolo qui ci andiamo a mettere fx pro real un anno devo fermarmi a riflettere anche su questi passaggi un anno ecco un anno giustamente eccolo qui quindi andiamo a salvare tutto quanto e qui vediamo tutti i dettagli fx pro financial service ltd è una broker regolamentato fca con sede con varie sedi in realtà fx pro mi sembra che la sede ufficiale sia londinese però ci sono diverse sedi in diverse parti del mondo comunque è un broker serio ed affidabile col quale non ho nessun tipo di legame di vincolo di rapporto account numero 90 19779 questo è il mio nome e cognome l'euro la moneta questa è la data data di oggi 3 gennaio 2024 1504 tutti i trade eseguiti abbiamo visti prima li scorro velocemente altrimenti diventa un video eterno senza fine non c'è flottante zero flottante profitto di 1162 euro 74 centesimi il bilancio attuale di 2225 euro 79 centesimi l'equity line eccola qui un'equity line molto bella fino a un certo punto perché? perché tutto questo è stato fatto anche per il metodo relativo alle challenge prop firme quindi un rischio molto contenuto molto limitato per poter passare le challenge prop firme nel momento in cui abbiamo certificato insieme perché abbiamo fatto diversi video nel corso dell'anno che è un certificato che è un metodo fantastico da questo punto di vista molto buono con dei rischi molto moderati ho messo in moto un expert advisor che complessivamente è andato bene onestamente penso un attimino meglio ma comunque è andato bene e ci ha dato quella spintina finale anche per arrivare ad avere un po' più del 100% perché è un conto più che raddoppiato e quindi vediamo un'equity line con questa sorta di montagna, queste sorte di monti che si intravedono sembrano quasi le dolomiti fondamentalmente rispetto alla salita costante che c'è stata per gran parte dell'anno e poi tutti i dettagli del conto con il profit factor a 1.74 con l'expert advisor che ho messo in moto è cresciuto decisamente il drawdown è arrivato alla 16.8% che comunque è un drawdown a contenuto, è un drawdown sotto controllo è chiaro non siamo più a delle percentuali veramente risicatissime iniziali però è un drawdown assolutamente di basso rischio la leva è sempre stata una leva sotto controllo, levina piccola e quindi assolutamente l'ESMA non ci fa paura perché FX Pro è una broker serio sotto effetto ESMA e quindi vanno bene tutti i broker classici FX Pro, ActiveTrade, GKFX, tutti quelli che volete voi vanno assolutamente più che bene e via via tutti gli altri dati, di fatto l'equity line e tutti i dettagli che stiamo vedendo in grafica certificano il fatto che il conto è più che raddoppiato in un anno e quindi direi che il risultato è assolutamente un risultato più che soddisfacente ed è un risultato che certifica il fatto che se facciamo trading in un certo modo, in una certa maniera, con un certo metodo tutto questo è possibile ed è un position trading, attenzione, è un position trading il che significa che non dobbiamo con questo metodo rimanere tutto il giorno davanti al grafico assolutamente no ci sono dei momenti particolari nel corso della settimana dove andiamo a fare dei trade strategici dei trade specifici, dei trade che poi ci danno ovviamente determinate soddisfazioni con leve piccole, con rischi calcolati, con rischi sotto controllo e direi che il risultato assolutamente non è un risultato malvagio totale trade 376 il che significa anche che non abbiamo un trading asfissiante 376 trade su un periodo annuale in un periodo annuale significa che mediamente adesso vado ad occhio parliamo di 2 trade e mezzo al giorno ipoteticamente quindi assolutamente non è qualcosa di asfissiante nella maniera più assoluta poi si possono aprire più trade durante il corso della settimana con una certa gestione ma già il far vedere tutto questo nel corso di un anno ci fa capire assolutamente che è un metodo quanto meno simpatico ecco simpatico con dei rischi sotto controllo qualche annetto fa quindi fatto vedere questo tutto questo attenzione tutto questo chiunque me lo può chiedere in privato e quindi anche agli scettici agli scettici cronci questo è un discorso che interessa perché tante volte mi sono ritrovato online sui vari forum a parlare del mio metodo e delle percentuali che andavo a sviluppare e tanti mi dicevano sì però può essere tutto falsificato quindi lo statement l'equity line non ha più un grande senso ed è per questo che faccio con tutti privatamente un discorso molto trasparente li contattate privatamente tutti i risultati visti li andiamo a rivedere nella maniera più più trasparente possibile e ovviamente parliamo di un conto reale di trading quindi non parliamo di file excel non parliamo di conti dimostrativi qualche annetto fa avevo lanciato l'expert advisor mattino veloce eccolo qui mattino veloce se voi digitate su youtube e lo scrivo anche andiamolo anche a scrivere allora eccolo qui se digitate questa cosina qui mvtrade su youtube o expert advisor mvtrade trovate i risultati che ho pubblicato per circa 4 annetti con questo expert advisor e quindi è un expert advisor che ha dimostrato nel tempo di essere assolutamente affidabile profittevole con dei risultati che andavo a mostrare settimana dopo settimana quindi facevo dei report settimanali non esisteva una cosa simile in italia almeno quantomeno non era popolare far vedere una cosa simile in italia però ho visto che questa strategia che poi ho sulla quale ho sviluppato l'expert advisor era una strategia assolutamente interessante con dei rischi moderati e con delle percentuali molto rilevanti perché se pensiamo al 2016 2016 ha visto addirittura un 86% di ritorno sul capitale investito in un unico cambio sterlina dollaro più 86% e anche questo ho fatto vedere settimana dopo settimana con i vari report oltre questo trovate anche i video di questo expert advisor e quindi ho fatto anche dei video piuttosto lunghi forse vi metterò anche i link sotto questo video di come effettivamente poi funziona questo expert advisor è un expert advisor a break out lavora al mattino e fa un unico trade per cross e cambio che si va ad attenzionare che si va a prendere in considerazione e poi non serve altro perché lo stop loss il take profit è assolutamente qualcosa di automatico e quindi la parte bella di questo expert advisor che è assolutamente totalmente automatico con risultati certificati nel corso del tempo certificati non solo dall'expert advisor e quindi o meglio dai dal cammino dell'expert advisor fatto vedere in quei video ma poi fondamentalmente lo si può andare a vedere quello che va a sviluppare questo expert advisor anche se a distanza di anni è un po' più complicato nelle piattaforme classiche per ovvie ragioni però è un expert advisor che ha dimostrato assolutamente di essere molto profittevole con dei rischi molto moderati e come detto digitando mvtrade su youtube potete andare a rivedere tutti i report alcuni anche noiosi anche se ho cercato di farli in maniera veloce smart e veloce però quello è insomma non c'è molto altro da aggiungere questi parametri dell'expert advisor che trovate in grafica si può variare alcune alcune voci ad esempio lotto fisso oppure come l'adottavo a livello personale il rischio percentuale e quindi si può decidere la percentuale di rischio l'1% l'2% oppure il rischio fisso quindi si può fare sia un rischio fisso o un lotto fisso a seconda dei casi e via via tutti gli altri parametri con le voci che trovate per l'appunto all'interno di questo expert advisor un expert advisor ad un costo veramente molto accessibile a tutti non so se si non so se si dica così comunque un costo accessibile è un costo basso quindi non lo posso mantenere per troppo tempo però chiunque mi può contattare per serietà e professionalità nei confronti di tutti lo dico privatamente quindi ci facciamo una chiacchierata vediamo un attimino quali sono le vostre esperienze se è un discorso che potete sostenere nel senso se credete nel trading finanziario in tutto quello che comporta il trading finanziario che comporta delle grandi soddisfazioni ma ovviamente anche un certo impegno come tutte le cose quindi mi faccio un po' l'anamnesi della vostra persona e poi ad un prezzo veramente basso accessibile recuperabile in poco tempo avete la possibilità di prendere con voi questo expert advisor della mattino veloce l'MV trade la strategia dell'MV trade della mattino veloce di fatto AMV significa mattino veloce e di avere dei profitti di assoluto livello ovviamente come tutte le cose nel trading finanziario non si può dare la garanzia dei risultati questo è chiaro però il passato parla chiaro il passato ci indica un expert advisor che ha lavorato bene con dei rischi moderati e con dei profitti di assoluto livello di assoluto valore quindi mi potete contattare privatamente per avere informazioni su questo expert advisor per tutto il resto l'ho fatto vedere in questo video quindi il risultato è stato ottenuto abbiamo ottenuto un risultato pari al più 100% quindi conto più che raddoppiato in un anno e questo è quanto io vi ringrazio vi saluto vi auguro un buon anno anche perché questo è il primo video dell'anno del 2024 e chiunque volesse mi può contattare privatamente per farsi innanzitutto una chiacchierata e quindi capire anche le vostre esigenze mi potete contattare via telegram quindi ci possiamo sentire via telegram e basta non c'è altro da aggiungere come detto vi saluto vi ringrazio e appuntamento ai prossimi video